Slitta è il termine entro il quale cedere le quattro good bank, nate dopo la risoluzione di Banca Marche, Cari Ferrara, Carichietti e Banca Etruglia, secondo quanto riferiscono fonti del Ministero, la scadenza entro cui le autorità italiane ritengono si possa concludere l'iter di cessione può essere individuata indicativamente a settembre. L'Unione Europea aveva inizialmente indicato fine aprile, ma Italia e Commissione stanno lavorando per la proroga. Nel frattempo il commissario liquidatore di Banca Etruglia, Giuseppe Santoni, ha inviato una lettera a tutti gli amministratori avvicendatesi dal 2010 facendo una richiesta ad anni pari a 300 milioni di euro complessivi a proposito dello stato di insolvenza della vecchia Banca Etruglia dichiarato l'11 febbraio. È quanto riportano alcuni quotidiani. I destinatari della richiesta sono 35 chiamati a risponderne come responsabili in solido, tra loro i membri di tre diversi consigli di amministrazione più i componenti dei collegi sindacali. Il termine per il pagamento è indicato dal liquidatore di 30 giorni dalla data di invio della lettera che risale al 17 marzo. Alla scadenza il commissario potrà dire le vie legali avviando l'azione di responsabilità. Tra i destinatari ci sono l'ultimo presidente della banca Lorenzo Rosi, i suoi vice Berni e Boschi, padre del ministro Maria Elena, l'ex direttore generale Luca Bronchi, il predecessore di Rosi, Giuseppe Fornasari, con i suoi vice Giovanni Inghirami e Giorgio Guerrini. Le accuse sono di aver concorso in modo commissivo e omissivo nelle gravi irregolarità di gestione, aver erogato e gestito finanziamenti e mutui anche in conflitto di interesse, e ancora di aver causato il depauperamento del patrimonio sociale, di aver fatto ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia. Gli ex amministratori di Banca Etrugia, o almeno alcuni di loro chiamati a rispondere per 300 milioni di euro da Banca Italia, stanno preparando opposizione alla Corte d'Appello di Roma. È quanto si apprende da Firenze.